Pippo, Pippo una battuta, una battuta parlo mai io Bella partita, tutti insieme, è bello stare insieme Ci mancherebbe, Puppi è un grande amico, è un personaggio Secondo me oggi è anche una partita per lui, a prescindere di quello che è tutto il coinvolgimento dell'Expo Anche della sua fondazione, ma anche per lui, credo che sia una cosa molto bella E soprattutto per i bambini Sì, lui è legato completamente alla fondazione e ai bambini Quindi essendo per lui, sicuramente anche per la sua fondazione Sono tanti, sono tanti ricordi